Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle MRL Agility Peak 5, una scarpa molto polivalente che vi assicuro mi ha stupito alla grande. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti. Iniziamo come al solito da qualche dato tecnico fornito dalla casa di queste MRL Agility Peak 5. Per quanto riguarda la suola troviamo una Vibram Mega Grip con tecnologia Traction Lug, un tassello da 5 mm. Intersuola in Float Pro da 6 mm di drop, il tutto per un peso di 290 grammi nella taglia 42 da uomo. E adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito dalla suola per queste Agility Peak 5. Come dicevo una Vibram Mega Grip con tecnologia Traction Lug, ovvero quella Vibram Mega Grip che ha il maggior grip di tutta la gamma. Un tassello alto 5 mm che vi assicuro ci dà un'ottima stabilità e un ottimo grip su praticamente tutte le superfici. Passando dal fango, anche il fango quello bello scivoloso tiene molto molto bene. Alla roccia bagnata, perlunque il Mega Grip sulla roccia bagnata lo sappiamo va veramente bene. E poi vabbè naturalmente tiene molto bene anche su tutto quello che è l'asciutto senza nessun problema. Possiamo dire che è una suola che possiamo utilizzare praticamente quasi ovunque. Pensate che addirittura io ci ho fatto una corsa anche sulla neve e anche lì si è dimostrata abbastanza buona. Quindi davvero una scarpa che da punto di vista almeno della suola la si può utilizzare un po' ovunque. Continuiamo e possiamo parlare dell'intersuola. Come vi dicevo un'intersuola in float pro. Un'intersuola che è realizzato in un materiale diciamo di media densità. La media densità ormai la conosciamo, è quell'ottimo compromesso tra ammortizzazione e reattività. Di ammortizzazione ne abbiamo perché comunque abbiamo un'intersuola che è alto 31 mm nel tallone. E anche la reattività non è da meno. Tenete conto che con questa scarpa potrete correrci tranquillamente anche a 4.30 al chilometro senza nessun problema. Cosa poi non da poco nella parte anteriore della scarpa è presente anche un rock plate. Questo ci aiuta nel momento in cui dovessimo andare a correre su delle rocce anche appuntite a non sentire male alla pianta del piede perché andrà a isolarci completamente dalle rocce sottostanti. Quindi davvero devo dire un'intersuola molto molto ben studiato. Passando invece alla parte superiore della tomaia iniziando dal puntale troviamo un puntale di media struttura. Non è troppo rigido, non è quel puntale che se prendiamo a calcio una roccia non sentiamo nulla. È un puntale che se dovessimo strusciare con qualche roccia nessun problema, ma se proprio tiriamo un calcio secco ad una roccia allora il mare lo sentiamo. Ecco diciamo che magari qui avrei preferito fosse un pochino più rigido appunto per darci un pochino più protezione. Abbiamo poi tutta una parte laterale fatta in plastica che va praticamente ad affoggere tutta la nostra scarpa di questo colore arancione. Fa sì che protegga anche la tomaia da eventuali strappi e proprio per la tomaia devo dire che è estremamente traspirante. Vi assicuro io ho già corso in queste ultime settimane in cui ha anche piovuto tanto e l'ho bagnata tanto e si è asciugata veramente velocemente. Quindi devo dire una tomaia molto molto traspirante e anche molto avvolgente. Ma questo poi ne parliamo quando vediamo i lacci. Esiste poi anche la versione in Gore-Tex che costa qualche euro in più che naturalmente in quel caso sarebbe impermeabile. Continuando arrivando a parlare del tallone, un tallone abbastanza classico, ben strutturato nella parte inferiore che si destruttura pian piano che si sale nella parte superiore. Devo dire che complice anche l'altezza dell'intersuola non eccessiva ci si può correre anche su terreni tecnici senza aver problemi svirgolati di prendere delle storte. A livello di imbottitura anche qua molto bene, non è un'imbottitura eccessiva però comunque si riesce a correre di traverso senza nessun problema, non abbiamo mai dolori al piede quindi devo dire davvero un ottimo tallone. La cosa più particolare probabilmente è la linguetta di questa scarpa perché troviamo una linguetta molto molto soffice ma anche molto minimal. Una linguetta che ha poca imbottitura ma che comunque resta ferma innanzitutto e non si muove quando corriamo. Ed isola comunque bene la pressione dei lacci. Per quanto riguarda i lacci hanno una costruzione che insieme alla tomaia fa sì che si avvolga molto bene attorno al nostro piede. Davvero la scarpa poi andrà a seguire molto bene la nostra corsa e devo dire che davvero si ha un ottimo feeling con questa Agility Peak 5. Per quanto riguarda la sorletta all'interno è una sorletta MRL io devo dire di essere mi ci trovato molto bene quindi sinceramente andrà avanti a utilizzare quella alta in dotazione senza sostituirla. A livello di spazio sull'avampiede devo dire che è una scarpa non prettamente larga. C'è qualche millimetro in più per quando magari il piede va ad allargarsi però non è una scarpa wide. Anzi diciamo che tendenzialmente magari un mezzo numero in più rispetto alla nostra taglia abituale lo andrei a prendere. Poi naturalmente se invece avete una pianta particolarmente grossa lì dovete andare a provarla e vedere se ha senso prendere un numero in più. Ma per che tipo di atleta consiglio queste Agility Peak 5? Secondo me può andar bene un po' per tutti i tipi di atleti. Sia dall'amatore che magari si fa le gare anche camminando molto, correndo, che magari non ha nemmeno un'ottima tecnica di corsa. Anche a quell'atleta che magari invece punta a vincere delle gare, soprattutto delle gare lunghe magari, e vuole avere comunque una scarpa bella prestazionale che dia protezione. A livello di distanze ci si può fare, secondo me, un po' tutto. Dalle gare corte, anche se magari in quel caso tenderei a prendere qualcosa di più leggero e più reattivo, ma comunque lei non le disprezza, fino anche a gare abbastanza lunghe. Cioè con questa scarpa una gara da 70-80 km la si fa senza nessun problema. Per quanto riguarda invece il terreno, devo dire che anche lì la si può utilizzare praticamente un po' ovunque. Dal bagnato all'asciutto, devo dire che davvero è abbastanza polivalente. Detto ciò, arriviamo alle conclusioni per queste Merrell Agility Peak 5, perché anche qua c'è da stupirsi, perché il prezzo è di 160€ ufficiale da sito Merrell, o là si trova tranquillamente su 100-120€. Devo dire che ha un ottimo prezzo. Considerato che ultimamente molte scarpe vanno sui 200 e passa euro, trovare una scarpa sui 110€, con il quale si può fare delle ultra, che comunque dura nel tempo perché la suola Mega Grip ha un bel po' di tassello e vi porterà avanti nel tempo. I materiali sono molto buoni, con questa scarpa davvero ci potrete fare tranquillamente 1000 km senza nessun problema. E detto ciò ragazzi, io nella speranza sia stato Esaurentesa Steve anche per questa recensione e vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!